Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla Fipilì. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova e in uscita provenendo da Genova. Sulla strada provinciale 56 del Brollo e del Poggio alla Croce per la realizzazione della variante di Grassina. Doppio senso di circolazione sulla porzione nord della nuova rotatoria ghiacciaia nel tratto al chilometro 20 e 300 nel comune di Bagno a Ripoli nella città metropolitana di Firenze fino al 3 marzo. Infine per gli aerei a causa di uno sciopero cancellati i vari voli da e per Pisa e da e per Firenze. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie!